La Juventus è in piena crisi centrocampo e sta provando a recuperare pezzi in giro. Ma con questo nuovo nome si apre una nuova prospettiva, una soluzione che porta il centrocampo della Juventus di nuovo competitivo. Il nome è davvero importante. Ascolta tutto il video per scoprire come Giuntoli vuole regalare alla Juve e ai tifosi un vero colpo. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. La Juventus, dopo un avvio di stagione altalenante e con due pilastri del centrocampo, Pogba e Fagioli, fermati da squalifiche, sembra essere alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Uno dei nomi che sta emergendo con sempre maggiore insistenza nei corridoi della Continassa è quello di Thomas Partey, attualmente sotto contratto con l'Arsenal. Il centrocampista ganese, nonostante le grandi aspettative al suo arrivo a Londra, ha trovato difficile affermarsi come titolare fisso nei Gunners. Le recenti voci, provenienti da fonti vicine a Sky Sports, suggeriscono che Partey potrebbe essere aperto a una nuova sfida, considerando la sua crescente frustrazione per il limitato tempo di gioco a disposizione. La situazione della Juventus rende il club piemontese un candidato ideale per l'acquisto del talentuoso centrocampista. Con Pogba e Fagioli attualmente indisponibili a causa delle squalifiche, la squadra allenata da Massimiliano Allegri avrebbe sicuramente bisogno di una figura solida e affidabile in mezzo al campo. L'esperienza internazionale e le qualità di Partey potrebbero rivelarsi fondamentali per dare nuovo slancio al centrocampo bianconero. La possibilità di vestire la maglia della vecchia signora potrebbe anche rappresentare per Partey un'opportunità di rilancio. La Serie A, con il suo calcio tattico e le sue difese organizzate, potrebbe essere il contesto ideale per lui per mostrare il suo valore e riacquistare quella fiducia che sembra aver perso a Londra. Mentre la finestra di gennaio si avvicina, la Juventus dovrà pesare attentamente le sue mosse. L'acquisizione di Partey potrebbe rivelarsi una mossa strategica, offrendo al club sia qualità che profondità in una zona chiave del campo. Resta da vedere se l'Arsenal sarà disposto a negoziare e, in tal caso, a quali condizioni. Ma una cosa è certa. Gli occhi dei tifosi bianconeri saranno puntati su ogni sviluppo di questa potenziale trattativa.